Musica Direttore artistico Armonia Novissima, diciamo una stagione musicale molto giovanile se vogliamo chiamarla così. Sì, sono 15 spettacoli, abbiamo cercato di suddividerla un po' in filoni stilistici partendo dal classico che raggruppa più o meno 5 spettacoli tra concerto sinfonico, balletto, opera lirica, operetta. Passando anche sul pop rock che ha una presenza anche cospicua perché tra i pop classici appunto come Anna Oxa, Edoardo Bennato e Banco del Motosoccorso che ovviamente sappiamo sconfinano per quanto riguarda Bennato e Banco anche sul rock. Poi abbiamo anche uno spettacolo dedicato ai Pink Floyd e un'arpista, quindi una musicista molto particolare e talentuosa perché su uno strumento antico come l'arpa eseguirà brani rock, appunto arrangiamenti dei più grandi autori rock del Novecento. Poi abbiamo un filone invece più etnico jazz con Ray Gelato che è un grande showman inglese, grande jazzista e uno dei più ultimi forse importanti intrattenitori proprio di swing. Fino al balletto della Georgia, balletto nazionale della Georgia che è uno spettacolo anche straordinario che abbiamo già ospitato anni fa con danze agrobatiche appunto che ricordano un po' delle danze proprio più antiche georgiane. E poi il tradizionale appuntamento di fine anno di dicembre con il gospel con un gruppo di Chicago di 35 voci neroamericane. Posso dire una cosa perché vedo con vero piacere Enzo Avitabile che ha un carico non indifferente. Forse il personaggio in qualche modo più, in realtà più affascinante perché è forse l'esponente più alto degli artisti italiani della musica, della world music appunto italiana, di origine partenopea però ormai di caratura internazionale. Maestro, volevo chiederle, questo cambio, queste vicissitudini dell'amministrazione hanno arrecato un disagio nella realizzazione del cartellone della stagione? Fortunatamente no, devo dire che diciamo un po' la storia che la nostra associazione ha un po' tracciato tra il Teatro dei Marzi ormai da 13 anni e altre iniziative abbastanza ormai consolidate come il concerto di Natale oppure il festival di Alba Fucens sono state anche immediatamente recepite e apprezzate anche appunto dal commissario prefettizio, dal suo staff e abbiamo avuto modo di in qualche modo interloquire e di illustrare proprio ecco le finalità, i risultati soprattutto degli ultimi anni per cui c'è stato ecco in qualche modo un passaggio fisiologico abbastanza agevole. Grazie Presidente Franceschini di Armonia Non Vissima Oggi la presentazione di una stagione musicale che però è già stata visivamente presentata alla popolazione della Marsica Stavo commentando una stagione giovanile, fresca, quasi moderna Diciamo questa è un po' la perorogativa del nostro direttore artistico Un anno ha un filone musicale, una certa logica anche riguardando varie date di ricorrenze di artisti, di musicisti antichi Quindi è molto importante portare questo filone Quest'anno ha ritenuto opportuno questi appuntamenti che io condivido perfettamente anche perché non ha sbagliato un colpo Sono 12 anni che il maestro Massimo Coccia riesce a ottenere una stagione che molte altre realtà tra virgolette ci invidiano Presidente una campagna abbonamenti già avviata, possiamo già avere dei risultati? La campagna abbonamenti quest'anno è stata veramente travolgente, possiamo dire il termine giusto Abbiamo avuto moltissimi nuovi abbonati anche da altre zone fuori Avezzano E siamo arrivati all'incirca a un 550 abbonati Diciamo è il numero più alto di tutti i teatri d'Abruzzo Forse questo cambiamento nel cartellone può essere anche l'incipit per avvicinare di più la popolazione alla musica? E questo è sempre un'incognita Perché molte volte abbiamo degli appuntamenti che pensiamo che sia molto ricercato quel tipo di spettacolo Invece no, il classico non mente mai, diciamo l'opera lirica, il balletto, qualcosa di etico adesso viene molto richiesto Però ecco poi quegli altri personaggi vedevano per forza, per dare anche l'opportunità a molti che hanno altre esigenze culturali di ascolto Deve essere per forza variegato Due serate, debutta ad Aux Ad Aux ha due serate, sì, è in tour in Italia, è uno spettacolo particolare, non è solo un cantato È un po' anche un movimento scenico con altri anche musicisti Insomma, penso, non lo abbiamo già visionato in maniera un po' frammentaria, però penso che sia un bellissimo spettacolo Diciamo che non c'è nemmeno da dire in bocca al lupo perché la stagione è andata Beh, speriamo che questo lupo sia sempre vivo Grazie, grazie 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 Grazie